Convenzione Museo Diocesano Pulo di Molfetta Nasce il biglietto integrato Sovente si sottolinea la necessità di creare sistema e di avviare collaborazioni tra enti, istituzioni e associazioni al fine di valorizzare le peculiarità del nostro territorio Un primo passo in tale direzione è stato compiuto da due importanti realtà attive nell'ambito del settore culturale e turistico La cooperativa FEART, ente gestore del Museo Diocesano e l'associazione Consortire Polie, ente gestore del Pulo di Molfetta infatti hanno recentemente esigrato una convenzione grazie alla quale è stato avviato il progetto del biglietto integrato In altre parole, coloro che vorranno visitare entrambi i siti potranno richiedere un biglietto integrato Pulo Museo Diocesano ad un costo agevolato appositamente pensato per singoli e gruppi Avranno modo, nella stessa giornata o nell'arco di un mese dall'acquisto del biglietto, di visitare il prezioso scrigno del Museo Diocesano che racchiude reperti di materiale preistorico e di età romana frammenti provenienti dalle antiche chiese e dall'arredo urbano paramenti liturdici e statue e lignee, reliquiari e dipinti oltre alle donazioni di affermati artisti contemporanei e il Pulo di Molfetta Magica Dolina con le sue peculiarità storiche e archeologiche a partire dalle settecentesche strutture della nitrera borbonica oltre che naturalistiche come il Boschetto di Alloro o il secolare Carrubo Il legame tra il Pulo e il Museo Diocesano ha profonde radici Nel settore archeologico del museo, infatti, sono custoditi alcuni reperti provenienti dalla stazione neolitica ubicata sul paio anoro circostante la Dolina i cui primi ritrovamenti risalgono al XVIII secolo ad opera dell'arciprete Giuseppe Maria Giovane La collaborazione tra Poli e Feart ha vissuto un momento fondamentale con la realizzazione del convegno realizzato nello scorso mese di febbraio e ospitato proprio nell'auditorium del Museo Diocesano La nuova iniziativa si pone l'obiettivo di favorire la promozione, la valorizzazione e la fruizione dei due siti dal grande valore storico, artistico e archeologico naturalistico presenti nella nostra città, ma al contempo di ampliare il circuito culturale e turistico di riferimento rafforzando con eventi e manifestazioni il coordinamento tra le due realtà e creando una proposta organica ed accattivante Sarà possibile acquistare il biglietto integrato, ricevere informazioni ed effettuare prenotazioni presso il punto di accoglienza del purio di Molfetta o presso la recepzione del Museo Diocesano di Molfetta